Onorevole Bonaiuti, due regioni strappate per il momento, vinte al centro-sinistra, riprese al centro-sinistra. Grande il voto dell'astenzione, il governo farà una riflessione, forse la vittoria sul cancro e il pieno casa non vincono come una promessa fiscale? Guardi, la vittoria sul tumore ha significato una ripresa fortissima di interesse da parte di un governo verso i tumori. Noi pensiamo questo di farlo in concreto, cioè io personalmente penso di fare una serie di spot che dovremmo dare su tutte le reti nazionali in cui diremo come i principi del cibo e del non fumare siano fondamentali. Io credo che questa sia una cosa buona, non dico che si arriverà a sconfiggere totalmente in un X periodo di tempo, però che si possa fare molto per arrivare in futuro a una sconfitta definitiva si può fare. Lei pensi a cos'era considerato il tumore solo 20 anni fa, che si considerava una malattia imbattibile, oggi c'è la speranza di poterlo battere. Occorre però che tutti i governi, e il nostro deve partire da questo, diano una mano su scala nazionale per battere un fenomeno così tragico. Pensi al numero di vite umane che porta via, è la prima causa di decessi in Italia e in tutta l'Europa. Quindi il governo vorrà far ripartire anche il paese, sconfiggere la crisi economica, investendo sulla ricerca? Investire sulla ricerca, soprattutto nei tumori, è fondamentale. Da un lato noi ci siamo difesi cercando soprattutto di assicurare ai lavoratori che hanno avuto difficoltà attraverso la cassa di integrazione ordinaria e straordinaria e la cassa di integrazione anche per chi non ha un contratto. Non è che queste cifre, soprattutto per chi non ha un contratto, siano state enormi e rilevanti, però sono un segnale in un momento di crisi di come ci si interessa della persona che rimane in condizioni disagiate. Quindi secondo me questo cenno di interessamento è stato accolto favorevolmente. Che bisognerà fare ora? Bisognerà cercare di riaprire di più il credito da parte delle banche nei confronti di quelle piccole e medie imprese che sono il sale dell'Italia, 5-6 milioni di piccoli e medie imprenditori e cercare di rimettere fiato a loro perché aumentino attraverso il loro lavoro anche il lavoro dei dipendenti.